Non c'è più dignità, si è perso il senso dell'umanità. Riesco forse a piangere. Ciao Francesca Mangiatordi, da pronto soccorso. Hai la situazione posti letto, per caso? Niente proprio, ciao. 61 doktori hanno morto dalla Covid-19, con 11.500 cittadini. Questa cosa ci ha uniti e ci unisce ancora. The film is about being in the right place at the right time, documenting history in a first-class and intimate way. The maker of this film captures the anguish, heartbreak and heroism of those battling the deadly coronavirus in northern Italy. This is truly inspiring journalism. There are so many vivid images, one is blown away by the filmmaker's professionalism in producing this intimate film without being intrusive. Per the film is the videocon screen proposal. The film is a full photo from Jan Find If . I can only read the life of my computer when the созer.